Amici di Moto.it ben ritrovati sul nostro canale con un consueto appuntamento prima della prova e in questo caso prima della prova della nuova Honda Transalp 750. Siamo agli sgoccioli, fra poco andremo a provarla e sicuramente è una delle novità più attese del 2023 ma mi permetto di dire anche dell'ultimo lustro. È infatti da un po' di tempo che manca la scritta Transalp su una carena Honda. Era il 2013 quando uscì di scena la terza serie, la XV700, non so se ve la ricordate, io me la ricordo bene. Non solo perché partecipai al tempo al lancio stampa con un memorabile tour tra la Costa Azzurra e il col della Bonet, ma perché successivamente ne comprai una e ne fui un felice possessore. Viaggiamo parecchio. E infatti la Transalp è sempre stata fin dalla prima serie, quella del 1991, la 600 e con la seconda serie del 2000, la 650, una delle moto entrate nel culto dei Globetrotter di tutto il mondo. Una moto con cui viaggiare da molti paragonata proprio a un mulo. Quindi la prima domanda sarà veramente sulla nuova Honda Transalp a 750. Manterrà fede a quella che era la caratteristica della vecchia Honda. Se nell'ultima serie, infatti, quella appunto, l'XV700 faceva discutere l'adozione soprattutto del 19 pollici all'anteriore, della nuova serie, la 750, che ritorna al 21, fa discutere però l'adozione di un motore che non è più AV, è sempre bicilindrico, ma in linea fronte marcia. È lo stesso motore della Honda Hornet, l'abbiamo provato recentemente. A proposito, se non avete visto il video, vi lascio in descrizione quello del nostro Paolillo, che l'ha provato in anteprima per noi. Quindi, dicevo, bicilindrico fronte marcia, fasatura a 270 gradi, distribuzione monoalbero Unicam, 8 valvole e 92 cavalli di potenza a 9500 giri. Una potenza che nessun'altra Transalp prima di lei aveva mai raggiunto. Quindi la prima domanda è proprio sul carattere. Come sarà il carattere della nuova Transalp? Sarà così pacato come erano le precedenti Transalp? Crediamo che ci sia molto più grinta, almeno dopo aver provato il motore appunto della Hornet. Per la prima volta c'è anche un'adozione massiccia dell'elettronica, dell'elettronica più moderna, con il throttle by wire e i 5 riding mode, che combinano erogazione della potenza, freno motore e traction control. Non manca la connettività, con una strumentazione completa, fanelleria full LED e anche gli indicatori di direzione a spegnimento automatico. Il nuovo telaio è una struttura a diamante in tubo d'acciaio, il forcellone è in alluminio, la forcella a cartuccia chiusa è una Showa con steli rovesciati da 43 mm e 200 mm di escursione. Mentre al posteriore troviamo un monomortizzatore centrale che lavora su un sistema Pro-Link, quindi a leveraggio progressivo e un'escursione di 190 mm. Altro argomento di discussione è sicuramente l'adozione dei cerchi a raggi per camera d'aria in un tubeless. Abbiamo visto che già nei commenti divide, come sempre, chi propende più per la camera d'aria per il fuoristrada e chi invece preferisce il tubeless per l'utilizzo stradale. Le misure, come detto, sono 21 e 18, quindi quelle tipiche da fuoristrada. Ci sarà curiosità anche dal punto di vista della posizione di guida, perché la Transalp è sempre stata una moto molto comoda, alla portata di tutti. Ci sarà da capire appunto se anche la nuova lo sarà. La sella si trova a 85 cm dal suolo, ci sembra un buon compromesso. Così, come ci sembra un buon risultato, anche il peso, 208 i chili dichiarati con il pieno. Buono anche il risultato ottenuto con il prezzo di partenza, 10.690 euro. È sicuramente un listino aggressivo, competitivo, soprattutto dopo aver considerato quelli che sono i prezzi delle dirette avversarie. C'è anche da dire che tra i tanti accessori disponibili, alcuni dei quali ritenuti abbastanza essenziali, soprattutto se vogliamo andare a fare del fuoristrada, come il paramotore, il paramani o con il tris di valigie, ecco che il prezzo può lievitare molto rapidamente. Insomma, di questa nuova Transalp sappiamo quasi tutto. Non resta che toccarla e provarla, ma soprattutto mancano cosa? Mancano le vostre domande. Quindi, che cosa volete sapere della nuova Honda Transalp? Scrivetecelo qui sotto nei commenti. Come sempre, cercheremo di dare risposta direttamente dal test. E mancano veramente pochi pochi giorni. Dal vostro motoretto e da Moto.it è tutto. Attendiamo le vostre domande e ci vediamo direttamente al test della nuova Honda Transalp.